Promuovere l'Italia significa promuovere uno stile di vita, promuovere un modello. L'Italia promuove nella settimana dal 21 al 25 novembre la prima settimana della cucina italiana nel mondo per promuovere l'eccellenza della gastronomia dei prodotti agroalimentari italiani. Cercheremo di soprattutto puntare a imprese olandesi che si specializzano nell'importazione di generi agroalimentari italiani. Se io penso nei 46 anni che abito in Olanda, da adesso, cosa è successo con il mangiare italiano giorno e notte? C'è veramente un cambiamento riguardo alla qualità. Però la piccola industria è dove la gente olandese guarda, per la nicchia. Perché tutti i restauranti vogliono essere particolari e vogliono avere un prodotto che gli altri non conoscono. Il nostro corso è diventato più popolare e più comunale per le persone di italiani italiani a casa per comprare italiani prodotti e italiani ingredienti. Il numero di italiani italiani è ancora crescita, reale italiani italiani, italiani chef e reale italiani. Il numero di italiani è molto interessante. produttori in Italia, è interessante exportare a un mercato perché ci sono molte persone che i produttori di questi produttori quindi penso che è una grande opportunità.